Tomas, benvenuto ad Ascoli. Cosa ti ha convinto a sposare la maglia bianconera? Cosa mi ha convinto? Mi ha convinto soprattutto il direttore sportivo che mi ha contentato subito e dopo il suo progetto Mister Vivarini, perciò sono qua. Come ti stai trovando in queste prime settimane? Come è andato il lavoro a Cascia e come state lavorando qui al Picchio Village? Ancora purtroppo non si sa quando inizierà il campionato, però state lavorando sodo. No, stiamo lavorando tanto e credo che abbiamo fatto gran lavoro a Cascia, anche qua stiamo lavorando tanto. Fra due settimane più o meno comincia il campionato e vedremo dopo in campo. Cosa ti piace in particolare della filosofia di calcio che ha Mister Vivarini? Soprattutto il calcio che devi mantenere in possesso di palla, devi essere tu la squadra che attacca, che fa pressione, che domina in campo. Il Mister in questi primi test estivi ti ha provato sulla destra nel 3-5-2, tu puoi essere impiegato lì ma in carriera hai ricoperto tantissimi ruoli. Io soprattutto ho giocato sulla fascia, se c'era 3-5-2, 4-4-2 o 4-2-3-1 sempre privo ruolo di esterno alto e credo che questo è il ruolo mio. All'occorrenza potresti essere impiegato anche a sinistra? Sì, anche a sinistra ho giocato parecchie volte come a mezzala, però come l'ho detto prima il mio ruolo è di esterno. Che gruppo hai trovato? Che atmosfera si respira nello spogliatoio? Stanno arrivando tanti ragazzi nuovi? No, sinceramente è un gruppo sano, molto bravi ragazzi, mi hanno accolto molto bene, subito ho trovato grande amicizia con Riccardo Brosco, che siamo insieme in camera già da tre settimane, sinceramente è un gruppo di molto bravi ragazzi. Tu hai una grande esperienza in Serie B, purtroppo si è riducita all'esperienza al Cesena che è finita male, come credi che possa articolarsi questo campionato? Ancora dobbiamo capire le squadre che ci parteciperanno, sarà un campionato duro, che ruolo potrà recitare l'Ascoli? Prima possibile dobbiamo raggiungere la salvezza e dopo credo che ci possiamo divertire. Potrai divertirti anche con i nostri tifosi, tu sei un giocatore di temperamento, di corsa, di grinta, i tifosi dell'Ascoli amano queste qualità? Da quello che ho sentito sì, speriamo bene. Speriamo anche in qualche gol, ne hai realizzati tanti, in carriera anche belli? Certo, certo, è punto di fare più gol e più assist che ho fatto l'anno scorso.